Quando hai scoperto che il tuo modo di comunicare contava tanto quanto il cosa volevi comunicare? Ogni giorno comunichiamo. Spesso lo facciamo senza avere la possibilità di soffermarci un attimo a pensare a come la comunicazione plasma i nostri rapporti e spesso anche a come determina i nostri successi o altrimenti i nostri fallimenti. Ora torniamo per un attimo agli anni 60 nella scuola di Palo Alto in California. Paul Vazawick è un team di ricercatori a dir poco rivoluzionari tra cui psicologi, psichiatri, sociologi andarono oltre la semplice osservazione dei comportamenti umani. Nacque così la pragmatica della comunicazione umana. Furono i primi a capire che la comunicazione non è solo un mero scambio di parole. Ogni interazione infatti ha un significato profondo degli effetti anche quando non diciamo nulla. La pragmatica della comunicazione umana diede il via a uno studio approfondito del come comunichiamo e non solo del cosa diciamo. Vazawick e i suoi colleghi misero in evidenza cinque assiomi della comunicazione. Sono dei principi che ancora oggi sono alla base di qualunque teoria pratica sulla comunicazione umana. Il primo assioma lo conosciamo forse tutti. Recita che non si può non comunicare. Anche il silenzio infatti è un messaggio. Quando entri in una stanza ad esempio e resti in silenzio stai comunque comunicando qualcosa. Imbarazzo magari vi stacco. Il secondo assioma ci dice che ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione. Le parole non bastano. Conta il contesto, la relazione tra chi comunica. E poi il terzo assioma. La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione. Le conversazioni sono come le partite a scacchi. Ogni mossa influenza alla successiva ed è influenzata dalla precedente. Uno stesso atto comunicativo può essere interpretato in modi completamente differenti a seconda di quello che è accaduto prima o che accadrà immediatamente dopo. Il quarto assioma ci dice che la comunicazione può essere digitale e analogica. Le parole, cioè la componente digitale, sono importanti ma i toni, i gesti, le espressioni, cioè tutta la parte analogica, sono altrettanto cruciali in una comunicazione. E poi il quinto assioma. Le interazioni possono essere simmetriche oppure complementari. E questo determina se ci relazioniamo in modo paritario o gerarchico. Questi assiomi spiegano come nascono incomprensioni, conflitti e possono essere una risorsa preziosa per iniziare a tracciare una via verso le modalità per risolverli. Immagina un conflitto sul lavoro. A volte il problema non sta tanto nel cosa diciamo al collega, al capo, al collaboratore, ma nel come lo diciamo. Ah, ovviamente quando parliamo del come non facciamo soltanto riferimento allo stile con cui comunichiamo, ma anche al dove, al quando si parla, al chi è destinatario di una comunicazione e al chi vi assiste a questa comunicazione, al quanto, al quanto a lungo, al quanto spesso si parla. Insomma, non siamo di fronte a qualcosa di banale. E Bazarvik ci insegna infatti che dietro ogni comunicazione c'è una struttura che possiamo analizzare e quindi migliorare. E da queste ricerche che si è sviluppato poi, anni più tardi, il nostro modello di comunicazione strategica. Questo modello non è solo teoria, è pratica. Ecco perché nella nostra scuola di formazione abbiamo dedicato un intero modulo alla comunicazione strategica, per dare alle persone strumenti concreti per comunicare meglio, con più soddisfazione. Se vuoi scoprire come questi principi possono trasformare il tuo modo di comunicare, cerca nel calendario FIM il prossimo corso di comunicazione strategica in partenza. Ci alleneremo insieme. Se questo contenuto ti è piaciuto, metti like e segui il nostro canale. A presto!